Entra nel vivo la 17esima edizione del Festival Lettere Altura. Anche quest'anno l'ormai tradizionale rassegna avrà un titolo tematico Gli alberi guardano i treni che passano, tema quanto mai attuale che permette di riflettere ancora una volta sul rapporto tra uomo e natura. Dopo il bel antipasto offerto nelle scorse settimane da Aspettando Lettere Altura, il Festival prevede una giornata di anteprima domenica 17 settembre per una meditazione camminata con Don Paolo Squizzato che ci permetterà di conoscere il filosofo, poeta e scrittore americano Henry David Thoreau. Partenza dalla stazione ferrovere di Verbania e arriva a Mergozzo attraversando la riserva di Fondotoce. La manifestazione riprenderà poi mercoledì per concludersi domenica dopo una full immersion di 5 giorni. Sere del Festival sarà Villa Giulia con il centraeventi il maggiore per l'evento clou Marco Valdo di Peppe Servillo, in programma alle ore 21. Tra gli ospiti più attesi anche Gianmarco Griffi che nel pomeriggio di giovedì parlerà del suo libro Le Ferrovie del Messico, Guido Barbujani che presenterà il romanzo Questione di Razza nella serata di venerdì e Tony Capuozzo con Nessuno canta più per strada nella tarda mattinata di domenica. Una menzione anche per le mostre artistiche e fotografiche che saranno visitabili per l'intera durata del Festival e in alcuni casi anche oltre all'interno di Villa Giulia. In parallelo al Festival saranno inoltre proposti da settembre a novembre una serie di incontri e laboratori dedicati ai bambini e ai ragazzi delle scuole. Quale postilla la manifestazione? Venerdì 29 settembre è infine prevista una gitta letteraria a Santa Maria Maggiore in Valle Vigezzo in compagnia dell'urbanista, cartografo e viaggiatore Albano Marcarini. Senza dimenticare il programma, ancora in via di definizione, dell'appendice autunnale di Festival Post.